E come sempre un giudizio del nostro amico Aldo Raffi e collaboratore del Guerriero.it Allora se ci riferiamo al titolo italiano dei medio massimi tra Cichello e Saiani dobbiamo dire che questo match basato sulla distanza delle dieci riprese è stato veramente questa sera uno splendido match abbiamo visto sul quadrato due pugili esperti bravi movimentati veramente padroni del pugilato ecco perché anche Cichello è migliorato moltissimo in quanto sapeva tirare tutti i colpi ha fatto un match meraviglioso non me l'aspettavo veramente è stato grande e quindi degno del titolo italiano professionisti dei pesi medio massimi scusate medio massimi a limiti di chilogrammi 97 e 300 grammi quindi possiamo essere senz'altro soddisfatti per aver partecipato e vissuto questa sera un grande evento sportivo signore e signori buonasera